Ciao a tutti, buon 25 aprile. Ciao a tutti, sono Gianluca Cavallini, sono un lavoratore dello spettacolo e un grande amico degli archivi della Resistenza, che mi hanno chiesto di portare un piccolo contributo per spiegare lo stato del settore dello spettacolo, dei lavoratori dello spettacolo in periodo di pandemia e cosa significano in particolare queste proteste che i lavoratori dello spettacolo stanno facendo, perché, cosa stanno chiedendo, dove vogliono arrivare, ci provo, io non ho il dono della sintesi, su queste cose potrei parlare di giorni interi, proverò a dire qualcosa in pochi minuti. Allora, premessa, il settore dello spettacolo è stato il primo settore lavorativo a fermarsi e sarà l'ultimo a ripartire, e per ultimo intendo veramente l'ultimo, perché da quando riapriranno i teatri o le location di spettacolo ci vorrà ancora del tempo, prima che il comparto lavori, e non dico al 100%, anche soltanto al 40%, perché non basta aprire un teatro per averci uno spettacolo da mettere dentro, gli spettacoli si costruiscono in mesi di lavoro, le programmazioni delle tournee non si fanno in due giorni, e non si fanno in situazioni di incertezza, ok? Chiusa parentesi, questo per dire che non siamo da 14 mesi e basta, e magari da domani ripartiamo, no, abbiamo la consapevolezza che certe cose, e una parte di noi che lavora soltanto in certi eventi, non si faranno né quest'estate e nemmeno la prossima estate, ecco, vi do questa notizia, caso mai qualcuno avesse creduto davvero a quello che dicono i telegiornali, certe cose non si faranno nemmeno la prossima estate, certi grossi tour internazionali sono stati già rimandati al 2023, ok? Bene, chiusa parentesi, torniamo a noi, cosa chiediamo? Cosa chiedono queste proteste, queste manifestazioni di piazza? Chiedono soldi? Chiedono riaperture incondizionate? No, non chiedono nessuna delle due cose e un pochino delle due, allora partiamo dalla prima, aperture incondizionate? No, nessuno di noi l'ha mai chiesto una riapertura incondizionata, perché siamo uno dei pochi comparti fatto veramente, non dico al 100%, ma in una grande percentuale di persone che hanno una certa cultura e un certo rispetto, ok? Altrimenti non si lavorerebbe in questo ambiente che è fatto veramente di lavoro in team, fatto di lavoro dove ognuno deve essere in un certo senso autonomo, perché deve in autonomia sviluppare dei compiti in tempi prestabiliti molto spesso, molto rapidi, perché uno spettacolo si allestisce in poche ore, si fa e poi si smonta e poi si va magari da un'altra città e si rincomincia da capo, però allo stesso tempo si lavora in squadra, si lavora in team, ok? Quindi abbiamo una formazione naturale e aumentata dalla pratica lavorativa e quindi di una certa consapevolezza e di una certa attenzione a tutto quello che ci sta intorno, ok? Abbiamo mediamente un livello, un senso della morale piuttosto elevato e un senso del bene pubblico molto elevato, quindi non chiediamo aperture incondizionate, chiediamo di poter interloquire, di poter aiutare a trovare delle soluzioni laddove queste ci possono essere, nella consapevolezza che chi invece sta facendo queste cose non ci ha capito un emerito cazzo, ok? E quindi sta perdendo tempo, soldi pubblici, nel prendere decisioni che non hanno senso. Decisioni paragonabili, faccio un esempio, che mi piace fare gli esempi, come che io passassi, non capendo nulla di auto, vedo un'auto con le gomme sgonfie e dico ah ma quell'auto ha le gomme sgonfie, vanno levate e pensando che dopo averle levate, senza delle sostituite o rigonfiate, con l'auto possa camminare, ok? Siamo a questi livelli, qua abbiamo persone che decidono senza sapere nulla e decidono ovviamente cose sbagliate e inappropriate, peraltro con dispendio di tempo e di soldi pubblici, quando invece questi soldi potrebbero magari essere usati in altra maniera. Sussidi, soldi? Qua il punto qual è? Nessuno di noi, nessun lavoratore, cioè lavoratore dello spettacolo, porcaccia miseria, credo siano forse uno dei pochissimi settori al mondo fatto di gente che è realmente appassionata di quello che fa, ok? E cosa vuol dire? Vuol dire che vuole lavorare, che non sa stare ferma, quando un lavoratore dello spettacolo sta fermo un mese e va in depressione, immaginatevi 14 mesi, ok? Noi vogliamo lavorare, non possiamo fare il nostro lavoro, non possiamo fare i concerti nei stadi, fateci fare qualcos'altro. È nata immediatamente un'associazione di lavoratori dello spettacolo, si chiamava Chiamate Noi, è nata subito, appena c'è stato il problema della pandemia, appena sono venute fuori le prime notizie, i telegiornali che c'era il problema di costruire strutture temporane per la sanità, per dividere, tutte le problematiche ci sono state, vi ricordate, no? Allora protezione civile mobilitata, fondi, finanziamenti e noi guardavamo questa cosa e un mio collega ha fatto la battuta, caspita, ma fatecele fare a noi queste cose, le facciamo tutti i giorni da 30 anni, cioè noi in due giorni costruiamo delle città che poi siano un palco o uno stand fieristico, sono delle strutture complessissime, tirate su in un attimo, con ditte che hanno materiali fatti apposta per essere itineranti, per essere montati e smontati in materiali modulari, e non parlo soltanto di un palco, perché nel fieristico si costruiscono degli stand fieristici che sono una roba pazzesca, si costruiscono soppalchi, con tanto di servizi idrici, bagni che il giorno prima non c'erano in quello stand, ok? Più abbiamo delle professionalità che partono dalla sartoria, perché abbiamo le sarte in teatro, partono a chi si occupa di logistica, agli autisti, abbiamo i mezzi, fateci dare una mano, magari non possiamo fare gli spettacoli, ci date qualcosa come lavoratori per fare questa cosa, invece di ripartire da zero, no, neanche questo, ok? Chiamate noi, è ancora attiva, ma non ha più il tentativo di riferirsi all'amministrazione pubblica, cerca di ricollocare tecnici dello spettacolo in altri ambiti, perché magari anche un'impresa edile potrebbe avere bisogno magari di un po' di personale in più, che ha magari le capacità e il patentino per lavorare in quota, per esempio, no? Quindi questo chiediamo, chiediamo interlocuzione, e il modo in cui lo chiediamo è una dimostrazione che non siamo dei ciarlatani, che non andiamo a parole, lo dimostriamo, perché è una manifestazione come quella, l'ultima, no? Fatta a Roma, bauli in piazza, con 1400 bauli, guardate i bauli sono grossi, cioè trasportarli vuol dire che lì dietro si sono mossi dei bilici, che arrivano, vengono scaricati, vengono disposti con una precisione al centimetro in una piazza enorme, che le persone che arrivano, ok? Che non sono 50, ma sono migliaia, che si posizionano e rispettano tutte le regole, rispettano i tempi, rispettano le procedure di viaggio, questa è una dimostrazione che non siamo dei ciarlatani, che meritiamo attenzione, che siamo una risorsa, porca miseria, questo vogliamo dire ai decisori politici, che siamo una risorsa, non siamo una roba da buttare nella fogna, e se non possiamo fare gli spettacoli negli stadi, fateci fare qualcos'altro, fateci evitare di diventare dei rapinatori di banche, perché non abbiamo più di che sfamare i figli, questo è il senso di queste manifestazioni. E oggi è il 25 aprile, e noi non siamo un popolo oppresso, ma un po' prossimo. Ciao!